Quel Barbaro Padano, Caldarrosti, Cazzaldolli, Delelli, Calderogli, il signor Calzettoni, il cui avevo nel villaggio dei Neandertal, era famoso perché durante le battute di caccia teneva la freccia e tirava l'arco. Dicevo che il Barbaro Padano, con st'affetenzia dell'autonomia differenzia, vuole provocare l'estinzione del sud, già vittima di un esodo biblico, che così tanta voglia tra i campani di trasferirsi al nord, che i bambini, seppur concepiti a Napoli, nascono nella pancia delle mamme del nord. Ma Antonio, ma non era incinta da otto mesi? Sì, ma il mio bambino ha trovato un posto fisso nel grembo di una breciana.